Capitolo 7 Si riconoscono Una ragazza timida Baciba si ritirò nell'ombra. Quasi non sapeva se dovesse essere più divertita dalla stranezza dell'incontro o turbata dalla propria imbarazzante situazione. In lei c'era posto per un po' di compassione e anche per un tantino di esultanza. La prima per la posizione di lui la seconda per quella di lei. Imbarazzata non lo era e si ricordò la dichiarazione d'amore che Gabriel le aveva fatto a Norcom solo per accorgersi che l'aveva quasi dimenticata. Sì, mormorò, assumendo un'area dignitosa e voltandosi di nuovo verso di lui con le guance un poco accese. Sì, ho veramente bisogno di un pastore, ma... E' l'uomo che ci vuole per voi, signorina, disse uno dei paesani sotto voce. La convinzione chiama convinzione. Ah, proprio così, disse un secondo con decisione. «Proprio l'uomo adatto», disse un terzo con energia. «Ha la testa a posto», disse il numero quattro, con calore. «Allora ditegli di andare a parlare col fattore», fece Baciba. Tutto era ora tornato nell'ambito dell'utilità pratica. Ci sarebbe voluto una sera d'estate in piena solitudine per ridare appieno all'incontro il suo aspetto romantico. Gabriel, calmati i palpiti del suo cuore alla scoperta che quella astarte dalla dubbia fama era soltanto una metamorfosi della ben nota e ammirata Venere, si ritirò in disparte con il fattore che gli avevano indicato per discutere i preliminari necessari per il contratto d'impiego. L'incendio davanti a loro si andava spegnendo. «Gente», disse Baciba, «avete bisogno di rinfrescarvi un po' dopo questa fatica. Volete venire su alla fattoria? Potremmo goderci un bocconcino e un sorsetto molto più in libertà se voleste mandare la roba alla malteria Warren», replicò il portavoce. Baciba cavalcò via nel buio e gli uomini si dispersero in direzione del villaggio a gruppi di due o tre. Oak e il fattore furono lasciati soli vicino alla vica. «E ora», diceva il fattore concludendo, «mi pare che sul vostro lavoro sia stato deciso tutto. Perciò me ne vado a casa. Buonanotte a voi, pastore. Potete trovarmi un alloggio?» chiese Gabriel. «Questo non lo posso fare davvero», rispose l'uomo, sorpassando Oak come un cristiano svicola dal piatto della colletta quando non vuole dare un soldo. «Se continuate su questa strada fino ad arrivare alla malteria Warren, dove si sono riuniti tutti per uno spuntino, penso proprio che qualcuno vi indicherà un posto. Buonanotte, pastore». Il fattore, che rivelava così il suo terrore nevrastenico di amare il prossimo come se stesso, cominciò a risalire la collina e Oak riprese il cammino verso il villaggio, ancora sbalordito per l'incontro con Baciba, contento di esserli vicino e stupefatto dalla rapidità con cui l'inesperta ragazza di Norcom si era evoluta incarnandosi in quel gelido sovrintendente donna. Ma certe donne hanno bisogno solo di un'emergenza per riuscire a farlo. Costrette in un certo qual modo ad abbandonare i sogni per trovare la via, Oak arrivò al cimitero presso la chiesa e gli girò intorno sotto il muro dove crescevano parecchi vecchi alberi. Lungo il muro si stendeva una larga striscia d'erba. I passi di Gabriel furono attutiti da quel tappeto morbido anche in quel periodo dell'anno in cui tutto si induriva. Quando arrivò a un tronco che sembrava il veterano dei veterani, si accorse che una figura stava ritta lì dietro. Gabriel non si fermò. E un momento dopo orto per caso contro un sasso lì in mezzo. Quel rumore bastò per disturbare l'immobilità di quella persona che trasalì e assunse un atteggiamento distaccato indifferente. Era un esile fanciulla con abiti piuttosto leggeri. Buonanotte a voi disse Gabriel cordialmente. Buonanotte disse la ragazza Gabriel. La voce era inaspettatamente attraente. Aveva quel tono flebile e soave che suggerisce uno scenario romantico, comune nei racconti, raro nella realtà. Vi sarò grato se vorrete dirmi se vado bene per la malteria Warren, prese Gabriel, prima di tutto per avere l'informazione, indirettamente, per sentire ancora quella musica. Sì, andate proprio bene. È in fondo alla collina. E voi sapete... La ragazza esitò, poi continuò. Sapete fino a che ora tengono aperto alla locanda a testa di Dino? Sembrava soggiogata dalla cordialità di Gabriel. Come Gabriel era stato soggiogato dall'inflessione di lei. Non so dove sia la testa di Dino. Non la conosco. Pensate di andarci stasera? Sì. La donna attaccò di nuovo. Non c'era alcun bisogno di continuare a parlare, ma lei vuole aggiungere qualcosa, forse per un inconscio desiderio di mostrarsi indifferente, buttandoli in osservazione, come sono soliti fare gli esseri candidi quando hanno qualcosa da nascondere. Non siete di Weatherbury? chiese timorosa. No, sono il nuovo pastore appena arrivato. Soltanto pastore. Sembrate quasi un fittavolo a giudicare dei modi. Soltanto pastore, ripete Gabriel con il tono monotono di fine colloquio. Col pensiero era riandato al passato, ma con lo sguardo verso i piedi della ragazza e per la prima volta vide lì per terra una specie di fagotto. Probabilmente lei si accosse di dove Gabriel stava guardando, perché disse in tono cattivante «Non direte nulla nella parrocchia di avermi vista qui, vero? Almeno non per un giorno o due». non dirò nulla se lo desiderate disse Hawke. «Grazie davvero» replicò lei. «Sono piuttosto povera e non desidero che la gente sappia qualcosa di me». Poi si fece silenziosa e rabbrividì. «Dovreste portare un mantello in una notte fredda come questa» osservò Gabriel. «Vi consiglio di andare a mettervi al coperto». «Oh no! Se non vi dispiace vorreste proseguire per la vostra strada e lasciarmi sola. Vi ringrazio molto di quanto mi avete detto». «Va bene. Proseguirò» disse lui e aggiunse esitando «Dato che non avete mezzi forse vorrete accettare questa sciocchezza da parte mia. è soltanto un ocellino ma è tutto quanto posso darvi». «Sì, lo prenderò» disse la sconosciuta con gratitudine. Tese la mano e Gabriel tese la propria. Nel cercarsi al buio il palmo l'uno con l'altra per passarsi la moneta capitò un piccolissimo incidente che spiegava molte cose. Le dita di Gabriel si fermarono sul polso della giovane. Batteva con un ritmo tragicamente intenso. aveva spesso sentito lo stesso rapido pesante battito nell'arteria femorale delle sue pecore quando erano stremate. Indicava un consumo eccessivo di vitalità. Quella vitalità che a giudicare dall'aspetto e dalle condizioni della ragazza era già troppo scarsa. «Cosa avete?» «Cosa avete?» «Nulla». «Ma sì! Cos'è?» «Oh no! No, no! Voi non mi avete visto! Deve essere un segreto!» «Va bene, d'accordo!» «Buonanotte di nuovo, allora!» «Buonanotte!» La giovane rimase immobile accanto all'albero e Gabriel scese giù al villaggio di Wedderbury o Lower Long Paddle come era chiamato talvolta. Quando aveva toccato un esile fragile creatura gli era sembrato di trovarsi sotto la cappa di una profondissima tristezza. Ma prendere con cautela delle semplici impressioni a cosa saggia e Gabriel si sforzò di non dare importanza alla cosa. Capitolo 8 La casa del malto Una chiacchierata Qualche notizia La casa del malto o malteria Warren era circondata da un vecchio muro foderato di edera e benché dall'esterno a quell'ora non si potesse vedere granché il carattere e lo scopo dell'edificio erano abbastanza evidenti data la sua sagoma stagliata contro il cielo. Un tetto spiovente di paglia e stoppie partiva dai muri fino a un punto centrale in alto in cui si ergeva un piccolo lucernario di legno con un tettuccio fatto di assicelle spioventi su tutti i quattro lati dalle cui fessure si vedeva uscire nell'area notturna una vaga nebbionina. La facciata non aveva finestre ma nella porta c'era un riquadro coperto da un'unica lastra di vetro attraverso la quale rossi bagliori e rasserenanti si spingevano adesso fuori fino al muro di fronte e all'edera. Dall'interno provenivano delle voci. La mano di Oak sfiorò la superficie della porta allungando le dita alla maniera del mago Elimas fino a che non trovò una cinghia di cuoio che tirò sollevando così un saliscendi di legno che fece spalancare la porta. la stanza all'interno era illuminata soltanto dal bagliore rossastro della bocca della fornace che radiava la propria luce sul pavimento come fa il sole al tramonto e ingigantiva le ombre di tutti i tratti irregolari delle facce dei convenuti. A partire dalla porta e fino alla fornace il pavimento a lastre di pietra era consunto come un sentiero e ovunque era pieno di avvallamenti. Un pancone incurvato di quercia non piallata era addossato a uno dei lati e in un canto remoto c'era un lettuccio con la sua testiera occupato molto spesso dal suo proprietario il fabbricante di malto. Costui un vegliardo stava seduto ora davanti al fuoco i capelli e la barba bianchi come la brina ne ricoprivano in lineamenti ossuti come il grigio muschio e lichene ricoprono un melo senza foglie portava bracche corte e quegli stivali pieni di lacci che si chiamano ankle jacks i suoi occhi erano fissi sul fuoco il naso di Gabriel fu accolto da un'atmosfera carica degli effluvi del malto appena fatto la conversazione che sembrava centrata sull'origine dell'incendio cessò immediatamente e tutti lo passarono criticamente in rivista scrutandolo intensamente fino a corrugare la fronte e a squadrarlo socchiudendo le palpebre quasi fosse una luce troppo forte da sostenere completata quest'operazione più d'uno esclamò così da bondo oh questo qui è il nuovo pastore mi pare c'era parso di sentire una mano che tastava la porta per cercare il chiavistello ma mica eravamo sicuri che non era una foglia secca sbatacchiata dal vento disse un altro entrate pastore e siate il benvenuto anche se non sappiamo come vi chiamate il mio nome è Gabriel Oak compari il vecchio fabbricante di malto seduto al centro a sentire queste parole si volse girandosi col rumore di una gru arrugginita non sarà mica il nipote di quel Gabriel Oak lassù di Northcomb non è possibile disse seguendo una formula che esprimeva sì una sorpresa ma una sorpresa che nessuno doveva prendere alla lettera almeno per il momento mio padre e mio nonno erano dei vecchi che si chiamavano tutti e due Gabriel disse il pastore placidamente mi era sembrato di conoscere la faccia di quest'uomo quando l'ho visto sulla bica mi era proprio sembrato e adesso dove pensate di andare pastore penso di rimanere qui disse il signor Oak ho conosciuto vostro nonno anni e anni fa contenò il miliardo con parole che uscivano da sé come se l'abbrivio dato un momento prima fosse bastato ah davvero ho conosciuto pure vostra nonna ma no anche lei e ho conosciuto pure vostro padre quando era piccolo toh mio figlio Jacob quello là e vostro padre erano amici per la pelle accidenti se lo erano vero Jacob sicuro disse il figlio un giovanotto sui 65 anni con una testa mezza calva e un dente dall'arcata superiore che si esibiva con grande enfasi proprio lì in mezzo sporgendo in fuori come una pietra migliare su un terra pieno ma era Joe quello che ci aveva a che fare di più però mi sa che anche mio figlio William l'ha conosciuto quell'uomo prima ancora di noi non è vero Billy prima che te ne sei andato da Nordcom no è stato Andrew disse il figlio di Jacob un bimbo quarantenne o giù di lì che aveva la prerogativa di possedere un'anima gioconda in un corpo tetro e i cubaffi stavano prendendo qua e là la tinta grigia dei cincillà questo Andrew me lo ricordo disse Oak era uno di quelle parti quando ero ancora bambino ah l'altro giorno io e mia figlia minore Liddy siamo andati al battesimo del mio nipotino continuò Billy e accidenti se non è vero ci siamo messi a parlare proprio di quella famiglia ed era giusto passata la festa della purificazione della vergine quando i poveracci brava gente che però non ce la fa mica tanto si danno un po' di quei soldi che sarebbero il frutto insomma quelli che in caso aumentano da sé sapete pastore e io me lo ricordo quel giorno perché a tutti quanti toccò trascinarsi fino alla sagrestia sì proprio la famiglia di quest'uomo venite pastore venite a bere da noi si apre il becco e si manda giù un goccio di qualcosina mica un granché disse il vegliardo della malteria staccando ora dal fuoco quei suoi occhi di un color rosso vermiglio annebbiati a furia di tenerli fissi su quelle fiamme per così tanti anni va a prendere il Dio mi perdoni Jacob guarda se è caldo Jacob Jacob si chinò verso il Dio mi perdoni che era un alto boccale a due manici posato sulle ceneri bruciacchiato e screpolato dal calore l'esterno era abbastanza incrostato dalle più varie sostanze soprattutto nelle screpolature intorno ai manici le cui curve più nascoste non avevano probabilmente visto la luce del giorno da parecchi anni proprio per via di quelle incrostazioni formate da cenere casualmente bagnata di sidro e poi rimessa sul fuoco ardente ma gli occhi di qualsiasi bevitore ragionevole la cosa non aveva affatto degradato il boccale che era innegabilmente pulito all'interno e intorno al bordo possiamo forse aggiungere che un boccale di questo tipo è chiamato Dio mi perdoni a weatherbury dintorni non si sa bene perché ma probabilmente è la sua capienza che fa arrossire di vergogna qualsiasi bevitore quando lo vuota e arriva a vederne il fondo Jacob ha ricevuto l'ordine di controllare se la bevanda fosse abbastanza calda vi tuffò placidamente l'indice a mo' di termometro e dopo aver sentenziato che era quasi la temperatura giusta alzò il boccale e molto educatamente tentò di spolverare via un po' di cenere dal fondo con un lembo del suo camiciotto dato che il pastore Oak era un forestiero una tazza pulita per il pastore comandò il vegliardo della malteria no no non ce n'è bisogno disse Gabriel con un tono di riguardoso rimprovero non faccio mai caso alla sporcizia se è allo stato puro e si sa che roba è afferrato il boccale beve un pollice o due dagli abissi del suo contenuto e doverosamente lo passò al vicino non mi sognerei nemmeno di dare agli altri tutto quel fastidio di lavare le stoviglie quando c'è già tanto lavoro da fare a questo mondo continuò Oak in un tono più affettato una volta che tornò a respirare dato che gli si era bloccato il fiato come succede a chi beve grandi sorsate uomo di molto buon senso disse Jacob vero è vero non c'è da discutere osservò un giovanotto arzillo di nome Mark Clark gentiluomo piacevole un amicone che dovunque lo incontrassi in un viaggio era quanto dire conoscerlo conoscerlo quanto dire berci insieme e berci insieme quanto dire sfortunatamente pagare e qui c'è un boccone di pane e bacon che ha mandato la padrona pastore il sidro va giù meglio con un po' di roba solida non lo masticate troppo pastore perché il bacon mi è caduto per strada quando l'ho portato e può darsi che ci è rimasto attaccato qualche granello di terra ma dai però è uno sporco pulito lo sappiamo tutti che cos'è come dite voi e poi lo vediamo che non siete uno che fa il difficile pastore giusto giusto assolutamente disse oak con aria d'amicone non stringete troppo i denti e i granelli non li senterete proprio ah è straordinario che cosa si riesce a fare con un pizzico d'ingegno ed è proprio come la penso io amico ah questo è proprio il nipotino di suo nonno suo nonno era tale e quale simpatico e alla mano disse il vegliardo della malteria su bevi Henry Frey bevi disse magnanimo Ian Cogan uno che sosteneva idee san simoniane sulla divisione dei beni e una divisione alla pari quando si trattava di bevande alcoliche mentre il boccale dava segno di avvicinarsi a lui nel suo lento giro da un uomo all'altro giunto proprio in quel momento alla conclusione di un malinconico sguardo nel vuoto Henry non si rifiutò era un uomo più che di mezza età con sopracciglia alte sulla fronte sosteneva che in questo mondo la legge è pessima e frattanto lo fissava quel mondo come appariva la sua immaginazione con uno sguardo di lunga sofferenza che trafiggeva gli ascoltatori si firmava sempre Henry insistendo strenuamente che così si scriveva il suo nome e se qualche maestro di scuola di passaggio si azzardava a osservare che la seconda E era superflua e fuori moda riceveva la risposta che Henry era il suo nome di battesimo e che a quel nome si sarebbe attenuto col tono di chi è convinto che le differenze di ortografia siano una materia soggetta soprattutto al carattere di ognuno il signor Ian Cogan che aveva passato il boccale a Henry era un uomo color rosso cremisi di ampia corporatura con un barlume fraterno negli occhi il suo nome era apparso sui registri di matrimonio di Weatherbury e delle parrocchie vicine come compare d'anello e primo testimone a innumerevoli connubi negli ultimi vent'anni spesso ai battesimi appena un po' allegri faceva anche funzione di primo padrino su dai Mark Clark via ce n'è ancora parecchio nel barile disse Ian ah eccomi sicuro è il mio unico medico rispose il signor Clark che avendo vent'anni meno di Ian Cogan ruotava nella sua stessa orbita era uno che non perdeva occasione di immagazzinare allegria per poi scaricarla nelle feste popolari ma come Joseph Purgras tu non ne hai avuto neanche un goccio disse il signor Cogan a un uomo impacciato che si teneva in disparte porgendogli il boccale è un tipo così riservato disse Jacob Smoburi e come quasi quasi non aveva abbastanza forza negli occhi per guardare in faccia la nostra giovane padrona così ho sentito dire vero Joseph tutti guardarono Joseph Purgras con misericordiosa riprovazione no non l'ho proprio guardata mai si scremi si scremi Joseph facendosi ancora più piccolo mentre parlava evidentemente perché si era accorto umile com'era di essere salito indebitamente alla ribalta e quando l'ho vista non ho fatto che arrossire io poveretto disse signor Clark una natura abbastanza curiosa per un maschio disse Ian Cogan sì continuò Joseph Purgras e la sua timidezza che certo era un difetto penoso ora lo rimpì invece di un leggero compiacimento dato che era stata messa sul tavolo come un interessante oggetto di studio non ho fatto che arrossire arrossire e arrossire di continuo per tutto il tempo che mi parlava ti credo Joseph Purgras perché sappiamo tutti che sei un uomo molto timido è un dono imbarazzante per un uomo poveraccio disse il vecchio fabbricante di Malto e ne soffrite pure da un sacco di tempo lo sappiamo oh da che ero ragazzino sì mia madre se la prendeva parecchio per questo sì ma non è servito a niente mi siete mai buttato nel mondo per cercare di darci un taglio Joseph Purgras certo che sì ho provato con ambienti di tutti i tipi mi hanno portato alla fiera di Greenhill è un grande circo molto divertente dove c'erano donne che cavalcavano tutto intorno ritte su cavalli e che non avevano addosso quasi nient'altro che la camicia ma non mi ha guarito manco per niente e poi mi hanno fatto garzone tutto fare all'arena femminile del gioco dei birilli dietro l'osteria all'insegna del sarto a Casterbridge era una situazione orribilmente peccaminosa uno stranissimo posto per un uomo onesto dovevo stare in piedi e guardare in faccia gente sconcia dalla mattina alla sera ma non è servito a niente malgrado tutto stavo tale quale a prima questo fatto di arrossire lo abbiamo in famiglia da generazioni ecco sono fortunato a non avere niente di peggio è vero disse Jacob Smallbury affinando la mente per trovare un punto di vista più profondo sull'argomento è un'idea da tenere presente quella che non avete nulla di peggio ma anche così com'è è una brutta sofferenza per te Joseph perché vedete pastore mentre può andare benissimo per una donna accidenti se non è sgradevole per un uomo come lui poveretto è vero vero disse Gabriel riprendendosi dalle sue meditazioni sì è molto sgradevole per un uomo e come e lui è anche molto pauroso osservò Ian Cogan una volta era rimasto a lavorare fino a tardi agli albori bottom e aveva bevuto un goccetto di troppo e tornando a casa ha perso la strada giù per la foresta agli albori non è così Mastro Paul Grass no 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 questa questa no gridò l'uomo schivo com'era sforzandosi di sfoggiare una risata per nascondere il proprio imbarazzo e così si persa del tutto continuò il signor Cogan con un viso impassibile in cui si leggeva che un racconto vero esattamente come il tempo e la marea deve avere il proprio corso e non rispetta niente e nessuno e mentre camminava in piena notte spaventatissimo senza trovare un passaggio in mezzo a tutti quegli alberi strillava mi sono perduto mi sono perduto per puro caso un gufo su un albero cominciò a bubolare chi 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 come fanno i gufi sapete pastore e Gabriel annui col capo e Joseph rispose tutto tremante Joseph Paul Grass di Waterbury signore no no questa è troppo grossa disse quell'anima timida tramutatasi di colpo in un uomo dal coraggio spudorato io non ho mai detto signore giuro che non ho detto Joseph Paul Grass di Waterbury signore no no quello che è giusto è giusto e non ho mai dato del signore a quell'uccello sapendo benissimo che a quell'ora di notte un gentiluomo non si sarebbe mai sognato di mettersi a schiamazzare Joseph Paul Grass di Waterbury ecco le sole parole che ho detto e non l'avrei nemmeno dette se non ci fosse stato di mezzo l'idromele speziato del guardiano dei posso ringraziare il cielo che finì come finì la questione di chi avesse ragione fu tacitamente rinviata dalla compagnia e Ian continuò a meditabondo ed è pure l'uomo più pauroso del mondo vero Joseph come quell'altra volta che ti sei perso laggiù alla porta di Lambing Down non è vero Joseph proprio così rispose Paul Grass come se certe circostanze fossero troppo gravi per ricordarsi della propria modestia e quella ne fosse un esempio sì ed era pure in piena notte la porta non si voleva aprire per quanto lui ci provasse e rendendosi conto che il diavolo ci aveva messo la coda si mise in ginocchio sì disse Joseph attingendo coraggio dal calore del fuoco dal sidro e dalla sensazione che l'esperienza era evocata avesse delle discrete possibilità narrative il cuore mi morì in petto quella volta ma mi inginocchiai e recitai un pater noster e poi il credo dal principio alla fine e poi i dieci comandamenti pregando con tutto il cuore ma che la porta non si apriva e allora ho continuato con amati fratelli e mi sono detto con questa fanno quattro e di peghiere del libro non ne so altre per cui se questa non ce la fa sono perduto beh quando sono arrivato all'amen mi sono alzato e ho trovato che la porta si apriva proprio così compari la porta si apriva liscia come al solito tutti quanti si concessero un po' di tempo per meditare sulle possibili implicazioni e nel frattempo volsero lo sguardo verso le ceneri che splendevano come un deserto dei tropici sotto il sole a picco allungando lo sguardo e socchiudendo gli occhi un po' per via della luce un po' per via della profondità del tema in discussione Gabriel ruppe il silenzio come ci si vive in questo posto e com'è la padrona che ci dà il lavoro il suo petto pulsava di tenera agitazione mentre richiamava l'attenzione della compagnia sull'argomento più intimo del suo cuore di lei sappiamo pochissimo niente è spuntata qui solo pochi giorni fa suo zio si era ammalato e avevano chiamato un dottore famoso in tutto il mondo per le sue capacità ma non è riuscito a salvarlo secondo me si prenderà la tenuta è più o meno come stanno le cose credo disse Ian Cogan accidenti è un'ottima famiglia preferirei restare sempre con loro piuttosto che vagare di qua e di là suo zio era un tipo d'uomo davvero giusto non l'avete mica conosciuto pastore uno scapolo no affatto io andavo su a casa sua per fare la corte alla mia prima moglie Charlotte che era la sua lattaia beh era un uomo veramente di cuore il fittavolo Everdeen e dato che ero un giovanotto per bene mi permetteva di andare a trovare Charlotte e di bere birra a volontà ma senza mai portar via niente certo tranne la mia pelle voglio dire sì sì Ian Cogan sappiamo cosa vuoi dire e così capite era una birra meravigliosa e io volevo far vedere che apprezzavo il più possibile la sua gentilezza non volevo fare mica la brutta figura di berne soltanto un goccetto perché sarebbe stato un insulto alla generosità di quell'uomo è vero Mastro Cogan sarebbe stato un insulto convalidò Mark Clark e così prima di andare mi mangiavo un bel po' di pesce salato e quando arrivavo lì mi bruciava la gola come avessi consumato un cestino di limoni ero tanto assetato che quella birra scivolava giù ah come era dolce quando scivolava giù giorni felici giorni beati che belle sborgne prendeva in quella casa te ne ricordi Jacob venivi con me qualche volta certo che sì ah sì disse Jacob e anche quella che abbiamo preso alla testa di Daino quell'unedì di Pentecoste pure quella fu una bella ciucca bella sì ma se non fosse per qualche annaffiata di roba di classe superiore che poi mica ti avvicina al diavolo più di dove stavi prima non ce ne sono mai state come le ciucche prese nella cucina del fittavolo Everden non permetteva una sola imprecazione neanche la più innocente perfino nel momento più allegro quando tutti erano proprio sbronzi anche se però la bella vecchia parolaccia peccaminosa piazzata qua e là in occasioni come quelle è un gran sollievo per un animo allegre è vero disse il vegliardo della malteria la natura esige un po' di parolaccia al momento opportuno o non si sente a posto le esclamazioni blasfeme sono una necessità della vita ma charlotte continuò cogan charlotte non permetteva neanche una parola di quel tipo neanche la più piccola parolina che lo nominasse in vano oh povera charlotte mi domando se ha avuto la fortuna di poter entrare in paradiso quando è morta ma non ha avuto mai molta fortuna e forse invece se n'è andata laggiù dopo tutto povera anima e qualcuno di voi ha conosciuto il padre e la madre della signora Everden chiese il pastore che trovava qualche difficoltà a mantenere la conversazione nei binari che gli interessavano io li ho conosciuti un pochino disse Jacob Smobory ma erano gente di città e non abitavano qui sono morti già da anni di un po' padre che specie di gente erano i genitori della signorina beh disse il padrone della malteria lui non era un granché a vederlo ma lei era una donna incantevole lui era assai innamorato quando erano fidanzati non la smetteva più di baciarla centinaia e centinaia di volte si diceva osservò Cogan ne era molto fiero anche dopo sposati mi hanno detto disse il vigliardo della malteria sì disse Cogan l'adorava così tanto che ogni notte accendeva una candela tre volte per guardarsela amore senza confini non avrei creduto che esistesse nell'universo mormorò Joseph Porgras che generalmente sproloquiava su vasta scala quando allargiva le sue riflessioni morali certo di sicuro disse Gabriel oh accidenti se è vero conoscevo bene sia l'uomo che la donna Levi Everdeen era quello il nome dell'uomo sicuro per la fretta ho detto uomo ma era di un ambiente molto superiore un vero sarto per signori che valeva un mucchio di sterline e due o tre volte fece una tale bancarotta da diventare una celebrità oh invece io credevo che fosse un uomo molto comune disse Joseph oh no no quell'uomo fallì per montagna di quattrini centinaia e centinaia d'oro e d'argento siccome il vegliardo fabbricante di malto aveva esaurito il fiato il signor Kogan dopo aver scrutato distrattamente un tizione caduto nella cenere continuò il suo racconto dando una rapida occhiata in giro beh ora è difficile crederci ma quell'uomo il padre della nostra signorina Everdeen dopo un po' è diventato un marito infedele ma dei più infedeli che siano mai esistiti riuscite a capirmi non è che lui voleva essere infedele ma non poteva farci niente nelle intenzioni quel poveretto era fedele e abbastanza leale ma per quanto facesse il cuore gli restava vagabondo me ne ha parlato una volta soffrendo veramente Kogan mi disse non potrei desiderare una donna più bella di quella che ho ma quando sento che è legata a me come sposa legittima non riesco a trattenere il mio cuore malvagio che si mette a girovagare malgrado tutto alla fine però credo che un rimedio lo trovò la costrinse a togliersi la fede e quando restavano insieme da soli dopo aver chiuso il negozio la chiamava col suo cognome da ragazza così si immaginava che lei era soltanto la sua fidanzata mica sua moglie e appena riuscì a capire davvero che era una cosa sbagliata a disubbidire al settimo comandamento cominciò a volerle un bene dell'anima e vissero che sembravano il ritratto perfetto dell'amore reciproco beh era un rimedio veramente blasfemo mormorò Joseph Purgres ma dobbiamo provare una gioia profonda perché una felice provvidenza gli ha impedito di diventare peggiore sapete avrebbe potuto mettersi sulla cattiva strada e abbandonarsi del tutto una vita illegale sì all'oscena illegalità per così dire vedete disse Billy Smobori quell'uomo ce l'aveva davvero il desiderio di comportarsi bene ma il cuore non gli rispondeva migliorò tanto che alla fine negli ultimi anni era diventato quasi un uomo pio non è così Ian disse Joseph Purgres fece di nuovo la prima comunione ma stavolta più sul serio e cominciò a dire amen a voce alta quasi quanto il sagrestano e gli piaceva mettersi a copiare le parole misericordiose dalle lapidi tombali faceva pure la questua quando si cantava così risplenda la vostra luce e faceva da padrino ai poveri trovatelli e teneva un salvadanaio per le missioni proprio sul tavolo così che prendeva alla sprovvista la gente che veniva a trovarlo proprio così e dava tanti scapaccioni e i figli della carità si ridevano in chiesa che a momenti non riuscivano più a stare dritti e faceva altre opere pie che vengono spontanei a chi è portato alla santità si a quell'epoca non pensava che a cose superiori aggiunse Billy Smallbury un giorno il parroco Tirdley lo incontrò e gli disse buongiorno signor Everdeen che bella giornata amen gli rispose Everdeen completamente distratto perché non pensava che a cose religiose quando vedeva un parroco si era un uomo veramente cristiano la figlia da ragazzina non era per niente bella disse Henry Frey non avrei mai pensato che da grande sarebbe diventata un così bel pezzo di donna speriamo che abbia un carattere bello quanto la faccia oh certo sì ma sarà il fattore occuparsi per lo più degli affari e di noi altri accidenti Henry spiò dentro il recipiente della cenere e il suo sorriso emanò interi volumi di ironica sapienza uno strano cristiano una specie di diavolo che si fa frate come si dice suggerì Mark Clark proprio così disse Henry e il suo tono suggeriva che a un certo punto bisogna finirla con l'ironia resti tra noi due da uomo a uomo ma credo che quello direbbe una bugia più volentieri la domenica che un giorno di lavoro io credo proprio di sì bontà divina quante chiacchiere disse Gabriel questo è abbastanza vero disse l'uomo dall'umore tetro gettando lo sguardo in giro con quella risata amara antitetica che nasce da una valutazione delle miserie umane più acuta di quella dei comuni mortali ah gente ce n'è di tutte le risme ma quell'uomo lì Dio ce ne scampi e liberi Gabriel pensò bene di cambiare argomento dovete essere molto vecchio voi signore del malto per avere dei figli per bene e così anziani osservò nostro padre è così vecchio che non si ricorda più quanti anni ha vero padre intervenne Jacob e negli ultimi tempi si è anche incurvato parecchio continuò analizzando la figura di suo padre che era assai più curva della sua si potrebbe dire che nostro padre si è davvero piegato in tre la gente curva dura parecchio disse accigliato il vecchio della malteria con un umore che non era proprio dei migliori al pastore piacerebbe sentire la storia della vostra vita padre vero pastore ma certo davvero disse Gabriel col calore di uno che avesse bramato di sentirla già da mesi quanti anni potreste avere signore il vegliardo per darsi importanza si raschiò a lungo la gola spinse lo sguardo fino al punto più remoto del recipiente della cenere e cominciò a parlare ma con quella lentezza che si giustifica quando l'importanza di un argomento è così condivisa che si perdono qualsiasi leziosagine pur di ascoltare il racconto beh non mi ricordo l'anno in cui sono nato ma forse posso ricostruire i posti dove ho vissuto e arrivarci lo stesso ho abitato a Upper Long Paddle in quella direzione e fece un segno col capo verso nord fino a 11 anni poi ne ho passati 7 a Kingsbury indicando il ponente dove mi sono messo a fabbricare malto per 22 anni e poi ci sono stato ancora 22 anni a cavare rape e a mietere ah ho conosciuto quel vecchio posto di Norcom tanti e tanti anni fa voi non stavate neanche nell'anticamera del cervello di qualcuno Mastro Oak Oak sorrise mostrando di crederci sinceramente poi ho fabbricato malto a Durnover per 4 anni e per 4 anni ancora ho cavato rape e per 14 volte sono stato 11 mesi a Milpont in St. Jude indicando verso nord-ovest il vecchio non mi voleva assumere per più di 11 mesi di seguito per evitare che mi mettessero a carico della parrocchia se mi facevo tanto male da non poter più lavorare poi sono stato a Melstock per 3 anni e la prossima a Candelora fa 31 anni che sto qui quanto fa in tutto 117 sogginò un altro vecchio signore bravo col calcolo mentale ma non a conversare che finora era rimasto inosservato in un angolo bene allora questa è la mia età disse con grande enfasi il vecchio della malteria oh no padre disse Jacob andavate per rapa ed estate e fabbricavate malto d'inverno negli stessi anni non dovete contare tutte e due le metà padre mio oh pianta la mannaggia e che forse d'estate non vivevo questo è il punto finirai per dire che ho un'età che non merita neanche parlarne ma no che non lo diremo disse Gabriel placandolo voi siete un fabbricante di malto molto vecchio attestò Ian Cogan placandolo anche lui lo sappiamo tutti e dovete avere una costituzione meravigliosa e molto dotata per riuscire a vivere tanto a lungo non è vero compari è vero verissimo dovete averla meravigliosa sul serio disse i reconvenuti all'unanimità il vecchio della malteria ora pacificato diventò a tal punto generoso da sminuire volontariamente un tantino la virtù di aver vissuto così tanti anni osservando che il boccale dal quale stavano bevendo aveva tre anni più di lui mentre esaminavano il boccale la cima del flauto di Gabriel emerse nella tasca del suo camiciotto e Henry Frey gridò non eravate voi pastore quello che ho visto a Casterbridge quello che stava lì è soffiare dentro un grande flauto sì è vero disse Gabriel arrossendo un po' ho avuto dei brutti guai compari e ci sono stato costretto una volta non ero così povero come ora non ve la prendete coraggio disse Mark Clark dovreste avere pazienza pastore e anche a voi toccheranno giorni migliori ma vi saremmo grati di un po' di musica se non siete troppo stanco non ho più sentito né tromba né tamburo da Natale disse Ian Cogan via fateci sentire un po' di musica Mastro Oak ma certo disse Gabriel tirando fuori il flauto e assemblando le varie parti è un povero arnese compari ma farò quello che posso con piacere a quel punto Oak intonò il fantino valla fiera e suonò tre volte di seguito quella frizzante melodia la terza volta riuscendo a potenziare le note con una maestria veramente artistica e vivace mentre chinava il corpo con piccoli scatti e batteva il tempo con il piede lo sa suonare proprio benissimo il flauto lo sa fare davvero disse un giovane sposo che non avendo niente di originale degno di nota era chiamato il marito di Susan Tau e continuò non mi dispiacerebbe mica suonare il flauto così bene è uno bravo e avere con noi un pastore simile è davvero un conforto mormorò Joseph Porgrass con voce mielata dobbiamo essere pieni di gratitudine che non sia un suonatore di canti osceni invece che di queste melodie allegre perché a Dio sarebbe stato altrettanto facile fare del pastore un uomo di cattivi costumi un uomo iniquo per così dire invece di quello che è sì per la tutela delle nostre moglie e delle nostre figlie dobbiamo essere davvero molto grati giusto giusto molto grati si precipitò a concludere Mark Clark del tutto indifferente al fatto che avesse udito soltanto una parola e tre quarti di quello che aveva detto Joseph sì aggiunse Joseph che cominciava a sentirsi come un personaggio della Bibbia perché in questi tempi il male prospera tanto che può capitarvi di essere truffati sia dall'individuo più ben rasato e con indosso la camicia più bianca sia dal più cencioso vagabondo al casello doganale se così posso esprimermi ah ora mi ricordo pure la vostra faccia pastore disse con area critica Henry Frey guardando Gabriel con occhi annebbiati mentre il flautista cominciava una seconda melodia sì ora vi riconosco stavate a suonare il flauto siete quello stesso che ho visto suonare a Castlebridge lo so perché avevate la bocca stirata e gli occhi fuori dalle orbite come uno che venga strangolato proprio come adesso peccato che suonare il flauto vi faccia diventare uno spaventapasseri osservò Mark Clark criticando ulteriormente l'aspetto di Gabriel che con quell'orribile smorfia inevitabile stava tirando fuori dal suo strumento il coro di madama Durden erano Molle e Beth e Doll e Kate e Dorothy Drag Gaggle Tale spero che non ve la siate presa per le cattive maniere di quel giovanotto che ha criticato il vostro aspetto sussurrò Joseph a Gabriel ma no per niente disse il signor Oak perché di natura siete un uomo bellissimo pastore continuò Joseph Purgras con seducente suavità ma sì certo che lo siete pastore disse tutta la brigata tante grazie disse Oak con la modestia di toni richiesta dalla buona educazione ma pensando che non si sarebbe mai lasciato vedere da Baciba a suonare il flauto e dimostrando così una sennatezza pari a quella dell'essere ingegnoso che inventò lo strumento la divina Minerva ah quando io e mia moglie ci siamo sposati nella chiesa di Norcom disse il vegliardo cui non piaceva trovarsi escluso dalla discussione ci hanno chiamati la più bella coppia del vicinato l'hanno detto tutti accidenti come siete cambiato adesso signore disse una voce con quella forza che viene spontanea quando si enuncia una verità fin troppo evidente proveniva dal vecchio nel cantuccio la cui insolenza i cui modi dispettosi erano a malapena compensati dal fatto che ogni tanto s'ughignava contribuendo così alle risate generali oh no no disse Gabriel non suonate più pastore disse il marito di Susan Toll il giovane sposo che aveva parlato prima io me ne devo andare e quando si fa musica mi sembra di stare sospeso per aria il solo pensiero che la musica continua anche dopo che me ne sono andato che continua e io non ci sono mi mette davvero tanta tristezza che fretta hai allora Laban cominciò Cogan di solito stavi fino a tardi eri uno degli ultimi ad andartene beh vedete compari mi sono sposato da poco con una donna e ora è lei la mia vocazione e così vedete il giovane si titubante nuovi padroni nuove leggi come si suol dire mi sa che è così osservò Cogan si mi sa pure a me disse il marito di Susan Hall con un tono in cui era sottinteso che in genere sapeva accettare uno scherzo senza aversene a male il giovane diede poi la buonanotte a tutti e se ne andò Henry Frey fu il primo a seguirlo poi Gabriel si alzò e se ne uscì con Ian Cogan che si era offerto di ospitarlo pochi minuti dopo quando i rimasti si erano alzati per andarsene Frey tornò di corsa indietro scuotendo un dito minaccioso gettò un'occhiata a carica di notizie lì dove gli cadde l'occhio per caso e cioè sul viso di Joseph Purgras oh che è successo che è successo Henry disse Joseph facendo un passo indietro cos'è che bolle in pentola Henry chiesero Jacob e Mark Clark il fattore Pennyways il fattore Pennyways ormai l'ho detta sì l'ho detta cosa? l'hanno scovato a rubare qualcosa? a rubare sì proprio a rubare la notizia è questa dopo che la signorina Everden era rincasata è uscita di nuovo per vedere se tutto era in regola come fa sempre e ha trovato il fattore Pennyways che strisciava giù per la scala del granaio con mezzo staio di orzo si è avventata su di lui come una gatta non si è mai visto un maschiaccio come lei parlo a porte chiuse no? ma sì certo che sì Henry si è avventata su di lui e per farla breve lui ha confessato di essersi portato via cinque sacchi in tutto ma dopo che lei gli ha promesso di non denunciarlo beh è stato licenziato in tronco e adesso mi chiedo io chi farà il fattore? la questione era tanto grave che Henry fu costretto a bere lì per lì dal grande boccale finché non ne vide chiaramente il fondo lo stava rimettendo sul tavolo quando entrò il giovane sposo di Susan Tull con una foga ancora maggiore avete sentito la notizia che gira in tutta la parrocchia? riguardo al fattore Pennyways? ma no quella altra no neanche l'eco risposero fissando Laban Tull con tale intensità che sembrava volessero tuffare di singola incontro alle sue parole che notte di orrori mormorò Joseph Purgras agitando freneticamente le mani nell'orecchio sinistro mi son sentito la campanella delle notizie che tintinnava così forte da annunciare un assassino e ho visto una gazza tutta sola Fanny Robin la più giovane delle serve della signorina Everdeen non si riesce a trovarla nelle ultime due ore non hanno mai chiuso il portone ma lei non era incasata e non sanno che fare se andare a letto o no per paura di chiuderla fuori non sarebbero tanto preoccupati se non l'avessero vista così giù di morale in questi ultimi giorni e Mary Ann pensa che alla poveretta sia piovuto in testa un'indagine del giudice istruttore Oddio si è buttata nel fuoco si è buttata nel fuoco uscì dalle labbra secche di Joseph Purgras No, si è negata disse Taw Oh, è stato col rasoio di suo padre suggerì William Smobory con un'acuta attenzione ai dettagli Beh la signorina Everdeen vuole parlare con uno o due di noi prima che andiamo a letto Tra questo guaio del fattore la faccenda della ragazza la signorina è quasi fuori di sé Tutti quanti si affrettarono lungo il viottolo fino alla fattoria salvo il vecchio fabbricante di malto che nessuna notizia né fuoco né pioggia né tuono potevano sradicare dal suo buco Eccolo lì di nuovo mentre i passi degli altri si allontanavano che si rimette a sedere e riprende a fissare come al solito la fornace coi suoi occhi rossi e annepiati Dalla finestra della camera da letto proprio sopra di loro la testa e le spalle di Baciba sporgevano un po' dal davanzale coperte di mistico bianco C'è qualcuno dei miei uomini fra voi? chiese ansiosa Sì signorina ce ne sono parecchi disse il marito di Susan Toll Domani mattina vorrei che due o tre di voi andassero a cercare nei villaggi qui attorno per sapere se è stata vista una ragazza come Fanny Robin fatelo con discrezione non c'è ancora alcuna ragione di allarmarsi deve essere andata via mentre eravamo tutti all'incendio chiedo scusa ma aveva qualche giovanotto che le facesse la corte qui nella nostra parrocchia signorina chiese a Jacob Smallbury non lo so disse Bathsheba non se ne è mai sentito niente signorina dissero uno o due di loro non è neanche probabile continuò Bathsheba perché qualsiasi spasimante avrebbe potuto venire qui a casa se fosse stato un giovanotto rispettabile la cosa più misteriosa sulla sua assenza anzi direi l'unica cosa che mi preoccupa davvero è che Mary Ann l'ha vista lasciare la casa con addosso soltanto il suo vestito da casa senza nemmeno una cuffia in testa cioè volete dire signorina scusate le mie parole che una giovane non sarebbe andata a trovare il proprio innamorato senza ghindarsi per bene disse Jacob riandando mentalmente a esperienze trascorse ed è proprio vero non lo farebbe signorina credo che avesse un fagotto ma non ha potuto vedere bene disse da un'altra finestra una voce femminile che sembrava quella di Mary Ann ma qui non aveva nessun giovanotto il suo sta a Casterbridge e credo sia un soldato sapete come si chiama? chiese Baciba no signorina lo teneva molto segreto forse riesco a scoprirlo se vado alle caserme di Casterbridge disse William Smallbury va bene se non torna domani ricordatevi di andarci e cercate di scoprire chi sia quest'uomo e di incontrarlo io mi sento terribilmente responsabile ancora di più dato che non ha né amici né parenti vivi spero che non le sia capitato qualche guaio con un uomo del genere e poi c'è questa vergognosa faccenda del fattore ma non è questo il momento di parlarne Baciba aveva così tanti motivi di preoccupazione che evidentemente pensava non valesse la pena soffermarsi su uno in particolare fate quanto vi ho detto disse per concludere e chiuse la finestra va bene padrona lo faremo risposero gli uomini e se ne andarono quella notte in casa di Cogan Gabriel Oak dietro lo schermo delle sue palpebre chiuse rimase intento a fantasticare con immagini che fluivano come un fiume che scorre rapido sotto il ghiaccio la notte era sempre stata il momento in cui gli tornava in mente più intensa che mai l'immagine di Baciba e in quelle ore notturne restò a lungo a contemplarla teneramente è raro che il piacere dell'immaginazione ricompensi la pena dell'insonnia ma può darsi che per Oak quella notte questo fenomeno si avverasse perché la sola delizia di vederla bastò a cancellare per il momento la sua percezione della grande differenza tra vedere e possedere penso anche a come riuscire a recuperare da Norcom i suoi pochi utensili e i suoi libri il miglior compagno di un giovane la sicura guida del maniscalco il chirurgo veterinario il paradiso perduto il pellegrinaggio del cristiano Robinson Crusoe il dizionario di Ash e l'aritmetica di Walking Game erano tutta la sua biblioteca e benché fosse una piccola raccolta grazie a una lettura molto attenta vi aveva attinto più solide nozioni che non parecchi uomini più fortunati da chilometri di scaffali gremiti di libri capitolo 9 la masseria una visita confidenze a metà alla luce del giorno la dimora della nuova padrona di Oak Baciba Everdin mostrava l'architettura di un vecchio edificio del primo periodo della rinascenza classica le sue proporzioni svelavano subito la sua genesi e cioè che anche essa era stata a un tempo la grande villa padronale di una piccola tenuta circostante ora totalmente scomparsa come proprietà autonoma e fusa in un vasto latifondo di un proprietario non residente latifondo che comprendeva molti piccoli poderi pilastri scanalati e scolpiti in solida pietra ne decoravano la facciata sopra il tetto i camini erano alle esene o a colonnine mentre certi timpani spioventi dotati di freggi ornamentali o strutture analoghe conservavano le tracce della loro origine gotica un morbido muschio marroncino come un venuto stinto formava dei cuscini sulla copertura in pietra e ciuffi di pervinche o sempreverdi germogliavano sotto le gronde degli edifici attigui tutti leggermente più bassi un viale coperto di ghiaia che dal portone conduceva la strada di fronte era guarnito ai lati di altro muschio qui di una varietà verde-argento sì che il color nocciola della ghiaia era tutto concentrato lungo una striscia centrale larga un piede o due sia questo fatto sia l'atmosfera generalmente sonnecchiante di tutta questa parte del complesso che contrastava decisamente con l'aspetto vivace della facciata opposta suggerivano alla fantasia che quando l'edificio era stato adattato a fattoria il principio vitale della casa avesse fatto una giravolta su se stesso e attraversato il proprio corpo se ne fosse andato dall'altra parte il potere del commercio ha spesso inflitto rivolgimenti di questo genere strane deformità orrende paralisi a tanti complessi architettonici strutture singole o insiemi di strade o città che all'origine erano stati progettati per puro godimento artistico quella mattina si sentivano delle voci concitate nelle stanze superiori cui si accedeva dalla scala principale di quercia massiccia con delle colonnine pesanti come impalcature di letti scolpite e tornite dalla bizzarra moda del loro secolo la ringhiera solida quanto il cornicione di un parapetto i gradini che giravano ininterrottamente su se stessi come qualcuno che cercasse di guardare al di sopra della propria spalla saliti su si scopriva che i pavimenti avevano una superficie molto irregolare ora si gonfiavano come creste e ora sprofondavano come valli e siccome per il momento non erano coperti da tappeti le assi portanti erano bene in vista tutte rosicchiate da una miriade di tracce serpeggianti di tarli all'aprirsi o chiudersi di una porta ogni finestra rispondeva con puntuale fracasso ogni brusco movimento provocava dei tremolii e chi camminava per la casa dovunque andasse era sempre accompagnato da uno scricchiolio come da uno spettro sbirciando nella stanza da cui provenivano le voci si potevano vedere Bathsheba e la sua cameriera di fiducia Liddy Smolbury seduta sul pavimento intente a fare una loro cernita in mezzo a un groviglio di carte libri bottiglie e bazzecole varie sparpagliate ovunque resti del corredo domestico dell'ultimo abitante della casa Liddy pronipote del fabbricante di Malto più o meno coetanea di Bathsheba aveva un viso che era un vero e proprio manifesto propagandistico della spensierata ragazza inglese di campagna la bellezza formale magari un po' carente nei suoi lineamenti era ampiamente ricompensata dalla perfezione del colorito che in quella stagione invernale era di quel morbido rubicondo spalmato su superfici perfettamente rotonde come lo troviamo in un Therburg e un Jared Tone e proprio come nelle scene di questi grandi coloristi era un viso mille miglia lontano da quella soglia che va dal fascino alla bellezza ideale tuttile per natura era però meno coraggiosa di Baciba e ogni tanto sfoderava una cert'aria seriosa per metà veramente autentica e per metà fatta di buona creanza aggiunta in sovrappiù per senso del dovere attraverso una porta socchiusa il rumore di uno spazzolone ci conduceva dritti alla donna delle pulizie Mary Ann Money una tipa che aveva un viso simile a un disco tondo imbronciato non tanto per l'età quanto per la perplessità intrisa nei suoi lunghi sguardi fissati in lontananze perdute pensare a lei metteva allegria parlare di lei era come evocare l'immagine di una mela renetta normanna rinsecchita smetti un attimo di strofinare il pavimento le disse Baciba attraverso la porta sento qualcosa Mary Ann rimase con lo spazzolone sospeso il rumore degli zoccoli di un cavallo era indubitabile e si avvicinava alla facciata della casa il cavallo rallentò il passo imboccò il cancello e cosa davvero inaudita proseguì per il sentiero muschioso proprio fino al portone la punta di un frustino o di un bastone picchiò la porta che impertinenza che impertinenza disse Liddy a bassa voce che maniere venire a cavallo su per il sentiero che si fa a piedi perché non si è fermato al cancello cielo è un signore vedo la cima del suo cappello calmati disse Baciba Liddy non smise affatto di esprimere il suo sdegno limitandolo però solo all'atteggiamento e rinunciando alle parole ma perché la signora Cogan non va ad aprire il portone continuò Baciba un rat-tat-tat-tat risuono ancora più deciso e cheggiato dalla quercia del portone di Baciba Mary Ann vaci tu disse agitata dall'improvviso affollarsi di fantasie romantiche ah signorina guardate in che stato sono l'argomento era indiscutibile dopo aver dato un'occhiata a Mary Ann Liddy devi andarci tu disse Baciba Liddy alzò le mani e le braccia ricoperte dalla polvere delle cianfrusagli che stavano smistando e guardò con occhi imploranti la sua padrona ecco ci sta andando la signora Cogan disse Baciba manifestando il proprio sollievo con un lungo respiro che aveva trattenuto in petto per un minuto o forse più la porta si aprì e una voce profonda disse è in casa la signorina Everdeen vado a vedere signore disse la signora Cogan e dopo un minuto riapparve nella stanza Dio mio che mondo matto è questo continuò la signora Cogan una donna dall'aspetto fiorente che aveva un tono di voce per ogni tipo di osservazione a seconda dell'emozione richiesta dalla circostanza sapeva rivoltare una frettella o far volteggiare una ramazza con la precisione degna di un calcolo di matematico pura e in quel momento mostrava delle mani costellate di briciole di pasta e delle braccia incrostate di farina mai una volta signorina che quando sono tutta presa a fare una torta non mi succeda una di queste due cose o mi sento prudere il naso e non posso resistere se non me lo stropiccio o qualcuno bussa la porta il signor Boldwood desidera vederla signorina Everdeen dato che il vestito di una donna fa parte del suo aspetto e che qualunque disordine nell'uno ha la stessa natura di un difetto o di una menomazione nell'altro Baciba disse subito non posso mica riceverla in questo stato oddio che devo fare le fattorie di Weatherbury non avevano ancora simpatizzato con il consueto la signora non è in casa perciò lì suggerì dite che siete uno spauracchio per tutta questa polvere e che quindi non potete scendere sì certo questa sì che suona bene disse la signora Cogan con aria critica di che non lo posso ricevere e basta la signora Cogan scese per trasmettere la risposta aggiungendo però dietro propria esclusiva responsabilità la signorina sta spolverando delle bottiglie signore è in uno stato pietoso ecco perché oh non importa disse senza scomporsi quella voce profonda volevo solo sapere si è saputo nulla di Fanny Robin nulla signore ma forse avremo notizie questa sera William Smallbury è andato a Casterbridge dove sembra che si trovi il suo ragazzo e gli altri uomini stanno facendo ricerche dappertutto il calpestio degli zoccoli del cavallo ricominciò e si allontanò il portone si richiuse chi è il signor Boltwood chiese Baciba un signore fittavolo della piccola Waterbury sposato no signorina quanti anni ha quaranta direi gran bell'uomo piuttosto severo di aspetto e ricco che noia questo spolverare mi capita sempre qualche pasticcio seccante disse Baciba brontolando perché voleva notizie di Fanny oh perché dato che lei da piccola non aveva amici fu lui a prenderla e a mandarla a scuola e a farle avere il posto qui da vostro zio è un uomo buonissimo da questo punto di vista ma dio mio per il resto che cosa un uomo più impossibile per una donna non si è mai visto gli hanno fatto la corte in sei per volta in sette ci hanno provato tutte le ragazze carine e per bene per miglia qui intorno Jane Perkins ci è faticato per due mesi come una schiava e le due signorine Taylor ci hanno speso un anno ed è costato notti intere di lacrime alla figlia del fittavolo Ives e più di 20 sterline di vestiti nuovi ma dio mio è stato come buttare i soldi dalla finestra a questo punto arriva un ragazzino che le guardò restando fuori dalla porta quel bambino era uno dei Kogan che insieme agli smolbori erano nomi altrettanto comuni nelle famiglie di questa regione quanto Avon e Durwent fra i nostri fiumi aveva sempre un dente tentennante e un dito tagliato da mostrare agli amici intimi e lo faceva con l'aria di essersi perciò stesso elevato al di sopra del comune greggio dell'umanità immune da afflizioni dopodiché a questa esibizione si aspettava che la gente esclamasse povero bimbo in una bella mistura di rallegramenti e di compatimento io c'ho un penny disse Mastro Kogan scandendo le sillabe beh e chi te l'ha dato Teddy chiese l'idea il signor Boldwood me l'ha dato per aprire il cancello cosa ti ha detto ha detto dove vai piccino e io ho detto dalla signorina Everdeen col suo permesso e lui ha detto è una donna matura vero piccolo e io ho detto sì brutto cattivo perché hai detto così perché mi ha dato il penny che confusione c'è dappertutto qui dentro disse Baciba scontenta quando il bambino se ne fu andato vattene Mary Anne o continui a sfregare i pavimenti o fai qualcos'altro dovresti essere sposata a quest'ora e non qui a seccarmi eh già signorina è vero ma tra gli uomini poveri che non voglio io e quelli ricchi che non vogliono me sono rimasta come un pellicano nel deserto vi ha mai chiesta in moglie a qualcuno signorina si azzardò a domandare a lidi quando furono di nuovo sole tanti immagino Baciba fece una pausa come se non volesse rispondere ma la tentazione di dire di sì dato che poteva ben farlo era irresistibile per una vergine ambiziosa malgrado la rabbia di essere stata definita matura un uomo mi ha chiesta una volta disse nel tono di chi la sa lunga e in mente le tornò l'immagine di Gabriel Oak il Gabriel fittavolo deve essere proprio una gran bella cosa disse lidi con i tratti impietriti dalle chimere che le si affollavano in mente e non l'avete voluto accettare non era abbastanza la mia altezza che bellezza poter snobbare qualcuno quando la maggior parte di noi si contenta di poter dire un grazie mi sembra di sentirvi no signore io sono di un rango superiore oppure baciatemi i piedi signore il mio viso è per labbra ben più importanti e lo amavate signorina oh no però mi piaceva abbastanza vi piace ancora? ovvio che no ma sento dei passi che cos'è? lidi guardò dalla finestra giù nel cortile posteriore che ora si andava sbiadendo e appannando con i primi veli della notte una fila ondeggiante di individui avanzava verso la porta posteriore con intenzioni assolutamente corrette come quelli straordinari esseri noti come catena di salpe che autonomi e ben distinti l'un dall'altro hanno però un'unica volontà comune a tutta una famiglia alcuni portavano i soliti camiciotti bianchi di cotone altri dei camiciotti di tela di un marroncino biancastro ricamati ai polsi sul petto sulla schiena e sulle maniche con punti a nido d'ape seguivano per ultime due o tre donne con scarpe infilate negli zoccoloni abbiamo addosso i filistei disse lidi schiacciando il naso contro il vetro tanto che le diventò bianco oh benissimo Mary Ann va giù e falli aspettare in cucina mentre mi vesto poi falli venire nel salone